Buongiorno a tutti, oggi vi parlo di Unipolsai Risparmio Giovane, la polizia che ti permette di accantonare un capitale per i tuoi figli o per i tuoi nipoti, anche con piccole rate mensili. I ragazzi, al compimento dei 20 anni di età, potranno utilizzare il capitale che tu hai messo da parte per i loro studi universitari, per iniziare un'attività lavorativa o anche come acconto per l'acquisto di una prima casa. In più hai la serenità di sapere che nel caso di una tua premorienza o di una tua grave invalidità, ci penserà Unipolsai a terminare il piano di accantonamento. E per i ragazzi che hanno conseguito il diploma senza perdere nessun anno scolastico, ci sarà il 15% in più di interessi. E tu lo sapevi?